Kan Yaman sta vivendo un momento cruciale per la sua carriera. Dopo aver lavorato a produzioni internazionali come El Turco e Sandokan, si prepara a partecipare al MIPCOM di Kan. Successivamente intraprenderà un tour mondiale per promuovere la sua nuova serie in cui interpreta il condottiero ottomano Balaban Aga. Ecco tutti i dettagli. Kan Yaman vola a Kan. Un traguardo significativo. La sua carriera in continua ascesa è un fenomeno che merita attenzione e analisi. Dalle sue origini nelle swap turche, che lo hanno reso famoso in Europa e oltre, fino alle produzioni internazionali che ne hanno ampliato il talento, Yaman ha compiuto un percorso straordinario. Recentemente ha concluso le riprese di Sandokan, attesa sul Rai 1 nel 2025, ma prima di questo è diventato noto a livello globale con El Turco, una serie che inizialmente sarebbe dovuta andare in onda su Disney+, ma che ha dovuto aspettare un nuovo canale per mesi. Finalmente le prime immagini di El Turco sono state rivelate, con il debutto ufficiale fissato per febbraio 2025. È un grande orgoglio per Yaman, che si è immerso nel ruolo del condottiere ottomano Balaban Aga, affrontando per la prima volta un copione interamente in inglese e allontanandosi dai suoi soliti personaggi affascinanti e misteriosi. Questa volta interpreta una figura storica ancora molto presente in Italia, in particolare a Moena, dove esistono leggende sul turco, che salvò la popolazione locale dai soprusi, cambiando la propria vita e fede. Nel frattempo ci sono importanti aggiornamenti su Cannes. L'attore parteciperà a un evento organizzato da MAD al Cannes Carlton Grand Salon, nell'ambito del MIPCOM. Inoltre Ates Ince, CEO di MAD, ha annunciato che Yaman inizierà un tour mondiale a febbraio 2025 per promuovere El Turco. Cannes Yaman, il tour mondiale e la presentazione di Sandokan. Dopo mesi di intenso lavoro, Cannes Yaman è pronto a raccogliere i frutti dei suoi sforzi. A febbraio 2025 il suo personaggio in El Turco debuterà in TV, mentre l'attore partirà per un tour mondiale per promuovere questa serie storica. Non solo, Sandokan sarà anche presentato al MIPCOM, in programma a Cannes dal 21 al 25 ottobre. Queste settimane si preannunciano frenetiche per Yaman, che avrà l'opportunità di parlare di due produzioni internazionali molto attese. Questi progetti rappresentano un'importante svolta nella sua carriera, segnando un distacco significativo dai ruoli delle soap e delle fiction che ha interpretato fino ad ora. Resta, però, un interrogativo da considerare. Se Cannes è pronto per un tour mondiale che lo terrà occupato per diversi mesi, come potrà partecipare anche alle riprese della terza stagione di Viola come Il Mare? Mediaset ha annunciato con ottimismo l'arrivo della fiction con Francesca Chillemi per il prossimo anno, ma sembra difficile che Yaman possa gestire le riprese insieme agli impegni del tour per El Turco. Dobbiamo forse prepararci a dire addio a Francesco Demir almeno per questa terza stagione? Aspettiamo aggiornamenti.